Maxi, gli specialisti della telefonia! Tutto ciò che cercate per il vostro cellulare, da Maxi lo trovate! Tutti gli accessori per il vostro BlackBerry, iPhone ed ogni altro tipo di cellulare, auricolari e dispositivi Bluetooth da auto, custodie e chiavette internet, attivazione di contratti di telefonia mobile, fissa ed internet, con wind e infostrada, per privati, liberi professionisti e aziende, anche con telefono incluso. Venite da Maxi, mille Maxi offerte vi aspettano! Via Di Novoli, Via Pietrapiana, Via Guelfa, Via Gioberti e Via Le Giannotti!